andando una volta a san francesco per lo distretto del borgo a san sepolcro et passando pel castello di monte casale venne a lui uno jovane molto delicato et nobile dicendo padre volentieri vorrei essere de vostri frati rispose san francesco figliuolo tu sei nobile jovane et delicato forse non potresti sostenere la povertà et nostre asprezze disse padre non siete voi uomini com'io adunque come le sostenete voi così le potrò sostenere io per la grazia di dio piacque molto a san francesco questa risposta sicché benedicendolo subito lo ricevette all'ordine e puose l'inome frate angelo quale si graziosamente si portò che in poco tempo lo fece guardiano in detto luogo di monte casale usavano in quel tempo nel paese tre nominati ladroni et vi facevano molti mali venuti questi uno di al predetto luogo pregarono frate angelo guardiano che desse loro da mangiare per amor di dio rispuose loro in questo modo et ripreseli molto aspramente dicendo voi ladroni crudeli et micidiali non tanto non vi vergognate rubare le fatiche altrui ma ancora presuntuosi et sfacciati volete divorare le povere limosine che sondate a servi di dio et non siete pur degni che la terra vi sostenga perché non avete nessuna riverenze a dio creator vostro né agli uomini del mondo andate dunque pe fatti vostri et non apparite più qui costoro con grande isdegno si partirono molto turbati poco stante tornò san francesco con una tasca di pane et uno vasello di vino auto di limosine per amor di dio al quale recita il guardiano come aveva cacciati i ladroni san francesco lo riprese fortemente e te disseli che aveva fatto male et crudelmente s'era portato però che peccatori meglio si riducono con dolcezza che con crudeli riprensioni onde il nostro maestro jesucristo il cui evangelio avemo ad osservare dice non è bisogno a sani il medico ma all'infermi et che non era venuto ad chiamare li justi ma i peccatori a penitencia onde mangiava spesso con loro con ciò sia cosa dunque che tu abbia fatto contra la carità et contra il santo evangelio di cristo ti comando per santa obbedienza che subito incontanente pigli questa tasca del pane et questo vasello di vino che io ho portato et sollicitamente va loro dietro per monti et piani tanto che li trovi et loro presenta questo pane et vino da parte mia poi umilmente ti inginocchia innanzi loro et dirai tua colpa della gran crudeltà che loro facesti poi li priega da parte mia che non faccino più male ma che temano iddio et non offendano i prossimi se questo faranno prometto loro provvederli nei bisogni loro et continuamente darò loro mangiare et bere quando fatto avrai umilmente questo te ne torna qua mentre che il guardiano andò a fare il detto comandamento san francesco si puose in orazioni pregando iddio che ammorbidasse il cuore di quei ladroni che si convertissino ad penitenzia partito l'ubbidiente guardiano tanto andò che li trovò et presentò pane et vino facendo l'ambasciata sua come piacque addio mangiando i ladroni la limosina di san francesco cominciarono a dire fra loro guai et miseri noi isventurati come dure et crudeli pene ci aspettano nello inferno che non solamente andiamo rubando i prossimi nostri offendendo et battendo ma et zian dio uccidendo niente meno di tanti et così scelerati mali et iniuste cose che noi facciamo non avemo rimordimento di coscienzia né timore di dio et questo santo frate è venuto a noi a rendersi in colpa per certe parole che giustamente per nostra malizia ci disse et così umilmente ci ha domandato perdonanza et oltre a questo ci ha portato pane et vino et si libera al promessa dal padre frate francesco veramente questi sono frati di dio et meritano paradiso ma noi siamo figliuoli di dannazione eterna et meritiamo le pene eterne omni di crescendo la dannazione nostra non sappiendo se de peccati fino a qui fatti mai potremo misericordia da dio trovare queste parole et simili dicendo uno di loro dicevano gli altri due per certo tu di vero ma ecco che dovemo fare andiamo disse al venerabile padre fra francesco dandoci speranza di trovare misericordia da dio dei peccati nostri faremo ciò che ci comanda et così possiamo liberare l'anime nostre dalle pene dello inferno questo consiglio a degli altri piacque assai et così tutti d'accordo andarono a san francesco dicendo padre noi per molti scelerati peccati peccati fatti non crediamo poter trovare misericordia da dio ma se voi avete speranza alcuna che il dio pur ci ricevesse ad misericordia ecco apparecchiati siamo a fare tutto quello che comanderai et a far penitenzia con teco allora san francesco con grande carità et benignità riceutoli li confortò con molti esempi rendendoli certi che iddio aria misericordia di loro et di certo promise impetrarla loro da dio mostrando loro come la misericordia di dio è infinita et se avessimo infiniti peccati la misericordia sua ancora è molto maggiore et secondo il vangelio et ancora il detto dell'apostolo cristo benedetto in questo mondo venne per ricomperare i peccatori per le quali parole et simili a maestramenti santi i detti ladroni rinunziarono in tutto al mondo et all'opere sue et san francesco benignamente li ricevette all'ordine et cominciarono a fare gran penitenzia due di loro vissono poco dopo la loro conversione et andarono ad vita eterna et il terzo rimanendo et ripensando i peccati suoi si die ad tal penitenzia che per quindici anni eccetto le quaresime che comuni sono le quali faceva con gli altri frati tutto l'altro tempo di unava in pane ed acqua tre di la settimana et sempre andava scalzo et con una sola tonica indosso nemmai dopo mattutino dormiva san francesco morì in questo tempo avendo continuata costui co tal penitenzia per molti anni una notte vi venne tanta tentazione di sonno dopo mattutino che per alcuno modo resistere poteva al sonno né orare o vegliare come soleva finalmente non possendo più se ne andò sul letto per dormire un poco onde posato il capo furratto in spirito et su un altissimo monte fu menato al quale era una profondissima ripa et a omnibanda pietre molto grandi scheggiose spezzate et scogli disuguagliati et scheggiose che uscivano fuori dei sassi quale ripa ad riguardare era molto paurosa l'angelo che guidava questo frate lo sospinse et lo gittò giù per questa ripa quale trabalzando et percotendo di scoglio in scoglio et di pietra in pietra al fine venne al fondo di questa ripa tutto dimembrato et spezzato et così li pareva essere al tutto giacendo in terra così malconcio dice colui che il guidava leva su che ti conviene ancora gran viaggio fare risponde il frate tu mi pari indiscreto uomo che mi vedi per morire delle percosse della caduta che ma così spezzato et tutto rotto et ancor mi di leva su accostatosi l'angelo a lui et toccandolo tutti li membri furono sanati poi li mostra una gran pianura piana di pietre molte puntate et taglienti anco vera molte spine et triboli et dice tutto questo piano passarti conviene a nudi piedi fino che giunga al fine dove stava una fornace di fuoco ardente nella quale ti conviene entrare avendo passata il frate tutta quella pianura con molta angoscia et pena l'angelo dice entra in questa fornace che al tutto così ti conviene fare dice questo oimè quanto mi selcro del compagno che mi vedi così vicino alla morte per questa angosciosa pianura et ora per riposo mi di ch'io entri nella fornace ardente guardando intorno ad questa fornace vide molte dimonia con forche di ferro in mano con le quali poiché stava troppo ad entrarvi subito vel sospinsono dentro guardando dentro vide uno che al mondo fu suo compare che ardeva tutto al quale il frate oimè compare isventurato come qua venisti rispuose un poco va più innanzi e te troverai mia moglie comare tua che di nostra dannazione ti dirà la cagione così andando più innanzi ebbe trovata la sventurata detta comarsua rinchiusa in una misura di grano affocata che crudelmente tutta divorava di che tutto pieno di maraviglia et di dolore la dimanda o isventurata et misera comar mia come et perchè venisti in questo sicru del tormento rispuose perché al tempo della gran fame la quale san francesco predisse dinanzi al marito mio io et lui falsavamo il grano et biada che noi vendevamo nella misura però in questa misura così stretta così stretta sono iudicata così stretta ad ardere poi di queste parole l'angelo sospinse il frate fuori della fornace e te disse apparecchiati a fare un terribile et aspro viaggio che ti convien fornire rammaricandosi il frate diceva o durissimo conducitore che alcuna compassione non mai tu mi vedi quasi tutto arso in questa fornace et ancora in pericoloso et lungo viaggio menar mi vuoi l'angelo allora lo toccò et fecelo sano et forte poi lo condusse a un ponte che senza grandissimo pericolo non si poteva passare perché molto era sottile et stretto et strucciolente assai senza sponde da lato et di sotto correva un terribil fiume pieno di dragoni serpenti et scorpioni et menava grandissimo puzzo disse l'angelo passa questo ponte che al tutto passarti conviene risponde lo frate come lo posso passare ch'io non caggia nel fiume l'angelo dice vieni dopo me et poni il piede ovvio pongo il mio così passerai sicuro passalo frate dietro all'angelo come insegnato come insegnato li aveva tanto che fu ad mezzo il ponte allora l'angelo volò via et la sciollo solo et lui se ne andò su un altissimo monte assai di lungi dal ponte dove lo vide lo frate molto bene andare così rimaso senza guida et solo riguardando nel fiume vedeva quelli brutti vermi star col capo fuor dell'acqua con le bocche aperte apparecchiate a divorarlo se cadesse onde stava in tanto timore che gli pareva morire et non sapeva che fare né che dire né possendo andare innanzi né tornare indietro vedendosi in tal tribulazione senza soccorso altro che di dio si chinò et abbracciò il ponte et con molte lacrime si raccomandava con tutto il cuore a dio che per la sua misericordia soccorrere il dovesse compiuta sua orazione li parve cominciare a mettere l'alie di che con grande allegrezza aspettava che crescessono per poter volare di là dal ponte ov'era volato l'angelo ma dopo alcuno tempo per la gran voglia di passare il ponte si mise ad volare ma perché le penne non erano ancora tanto grandi cadde sul ponte et cascarolli le penne onde di nuovo abbraccia il ponte et come prima raccomandandosi a dio fatta l'orazione di nuovo li parve di metter l'alie et non aspettò che crescessono ma come prima a volarsi mise innanzi tempo et caddongli le penne come prima et così rimase in sul ponte onde veduto che per fretta di volare innanzi al tempo li cadevano omnivolta le penne cominciò fra sé medesimo a dire per certo che se la terza volta metto l'alie aspetterò tanto che senza cadere potrò volare stando in questo pensiero la terza volta si vede metter l'alie onde aspettò gran tempo tanto che furono grandi ete parevali per lo primo secondo ete terzo metter l'alie avere indugiato ed aspettato ben da cento anni o più alla fine questa terza volta si levò con tutto suo potere et forza ad volo ete tanto volò che andò ad luogo ov'era volato l'angelo ete picchiò la porta ov'era entrato l'angelo al quale il portiere dice chi sei tu e tonde sei venuto qui risponde io sono un frate minore dice il portiere aspetta che ci voglio menare San Francesco ad vedere se ti conosce andando per San Francesco cominciò costui ad riguardare le mura maravigliose di questo palazzo rilucenti di tanta chiarità che chiaramente vedeva i cori dei santi angeli ete ciò che dentro si faceva stando così estupefatto a riguardare ecco venire San Francesco frate Bernardo et frate Egidio ete dopo loro tanta moltitudine di santi et di sante che avevano seguitato la vita sua che quasi erano innumerabili giunto San Francesco disse al portinaro fallo entrare per occheglie e dei frati miei come fu dentro sentì tanta consolazione ete dolcezza che dimenticò ominitribulazione che sostenuta aveva come l'avesse mai auta San Francesco menatolo allora per dentro molte maravigliose cose li mostrò poi disse ad te conviene di tornare al mondo et starvi sette di nei quali diligentemente t'apparecchierai con omini divozione passati poi sette di verrò per te et porterotti in questo luogo di beati era ammantato San Francesco di maraviglioso mantello adorno di bellissime stelle ette le dilette sacratissime sue stimate erano sì come cinque radiantissimi raggi di sole di tanto splendore che il palazzo illuminavano tutto con i razzi loro frate Bernardo avea una corona di bellissime stelle frate Egidio era adornato di maravigliosa luce e te molti altri santi frati conobbe fra loro che nel mondo mai veduti aveva adunque licenziato da San Francesco si ritornò al mondo benché malvolentieri destandosi il frate risentito et ritornato in sé sentì sonare i frati a prima ette così conobbe non essere stato in quella visione più che da cantato mattutino ad ora di prima benché a lui paresse essere stato centocinquanta anni recitando poi al guardiano la visione per ordine al settimo di cominciò ad avere la febbre poi l'ottavo di venne San Francesco per lui come li promise con grandissima moltitudine d'angeli et gloriosi santi et l'anima sua ne portò al reame di vita eterna all'aude et gloria dell'altissimo iddio et del poverello umile Santo Francesco a Grazie a tutti. Grazie a tutti.